Quali sono gli errori che un runner amatore deve evitare? Quindi perché non dovrebbe imitare gli allenamenti che tu prepari per Nadia? Perché evidentemente possono essere esagerati. Diciamo che forse l'errore più grosso, come ha detto anche Carlo, che fanno gli amatori e che a volte quando pensano di correre piano invece fanno il medio. Quindi i momenti di recupero per l'amatore non esiste. Io ogni tanto un paio di anni fa andavo a correre con un gruppo di amatori in Trentino e ogni volta era una gara. Poi dopo l'allenamento mi arrabbiavo anche perché dicevo scusa avete un'ora e venticinque sulla mezza e correte la corsa lenta a quattro allora oggi avete fatto la gara. Poi bisogna pensare anche che l'amatore, il master, non è che è un professionista che tra virgolette non fa niente tutto il giorno. Comunque c'è l'attività lavorativa, poi c'è la famiglia e stress su stress anche quello influisce sia sulle pulsazioni cardiache che sul recupero. Quindi tante volte, per esempio prendiamo il riferimento prima dell'amatore che fa 40 minuti sui 10.000 e non so quanti amatori che corrono in 40 minuti i 10.000 fanno la corsa lenta a 5, 5.10, 5.20. Ne vedo pochi. Per esempio Nadia all'inizio della preparazione e fin un mese prima del grande appuntamento lei la corsa lenta la corre tra i 4.30 e i 4.25. Tanti master, tanti amatori potrebbero correre con lei però lei poi corre sotto i 15.000, il master fa 17-18. Più che altro, infatti io per i master consiglio sempre l'uso del cardiofrequenzimetro che è come avere un allenatore sempre di fianco e soprattutto un tutor. È logico che il cardiofrequenzimetro con la fascia sarebbe eccezionale ad alcuni da fastidio e alcuni non la usano. Però deve essere anche supportato da un test che sia in laboratorio, che sia lo semplice test con coni che fa in campo e dura dieci minuti e comunque è un test semplicissimo da fare sarebbe l'ideale. E soprattutto tante volte anche allenandosi in gruppo il master pur di non sfigurare col compagno di turno per non essere preso in giro alla fine dell'allenamento fondamentalmente fa sempre una gara. Quindi a volte tornando ai Keniani, tornando a Kipchoge forse in quel gruppo lì di allenamento di Kipchoge Kipchoge si allena e gli altri fanno la gara. Perché se uno fa le due ore e dopo gli altri corrono da due ore, otto, qualcuno si è allenato e qualcuno ha fatto la gara. A volte poi che i Keniani facciano pochi chilometri è una barzadetta. Io sono stato in Kenya due mesi e ero a fine carriera fondamentalmente e l'ho usufruito per capire un po' quello che facevano. E io ho visto di quelle robe impressionanti solo da vedere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.